Dal Foro Italico di Roma, i più grandi pattinatori del mondo e i cantanti lirici della Fondazione Pavarotti accompagnati da coro e orchestra di cento elementi, tutti uniti a Natale per uno spettacolo di magiche emozioni sul ghiaccio. Conduce Alfonso Signorini. Festeggeremo tutti insieme in Natale dal Tempio dello Sport, il Foro Italico di Roma con la prima mondiale di opera On Ice. In esclusiva Opera On Ice, a Natale alle 16.20 su Canale 5.